Sono pronti nelle gabbie di partenza, si va! All'interno è sempre Stesaurus, con all'esterno Bridge Eros e Rainbow Angel, seguono Codaliscia e Casta e Montaigne. E in vantaggio Stesaurus, davanti a Bridge Eros, Rainbow Angel, Codaliscia e Casta e Montaigne. E sempre in leggero vantaggio Stesaurus, davanti a Rainbow Angel, Bridge Eros e Codaliscia. Prosegue in vantaggio Stesaurus, davanti a Rainbow Angel e Bridge Eros. Come da pronostico, Stesaurus la doveva vincere e l'ha vinta. Una discreta Rainbow Angel che forse dà ragione in questi termini al suo trainer che dice ma in pista dritta è meglio probabilmente che in pista all weather. Bridge Eros sul passo si adegua nel tratto conclusivo, da rivedere assolutamente la Debb Codaliscia. Ma la domanda è cosa può valere questo Stesaurus? 1.11 frazione il tempo, attenzione.